Benvenuti o bentornati a un nuovo video ragazzi, io oggi è lunedì e mi sono ricordato che fra due giorni parto per Las Vegas e questo settembre è bello pieno eh, perché abbiamo Las Vegas questa settimana e poi Lille, l'europeo e quella dopo io non so come fare, non so bene come prepararmi, ho questa maglietta che è troppo bella e boh Las Vegas è tipo, c'è questo torneo da 100k dollari limited, quindi sto testando Abbiamo fatto un Arena Open e un giro, purtroppo non ho fatto dei due e sinceramente l'Arena Open a me non mi va tanto di farlo più di due volte E poi a Lille si gioca Pioneer, quindi io sono in alto mare, in alto mare, veramente Sono pure a dieta, vi farò vedere i miei sacri elementi, il tonno e la pasta Vi dico un segreto, a me la pasta col tonno piace un po' Vorrei sapere voi come la fate, rossa o senza niente? Solo pasta e tonno Ma soprattutto, il parmigiano ce lo mettete? Io no Divertente che oltre a dover testare, devo anche portarmi avanti di registrazione di due settimane Quindi è un bordello, raga, è un bordello Abbiamo finito di editare qualche video, di registrare un po', vi ho fatto vedere un po' di dietro le quinte Nulla di che, spero di non avervi annoiato Adesso per il Pioneer vado a rompere un po' le palle a gente che conosco Quindi Donardo Rosadini, giocatore medio, rompo anche le palle a un po' i giocatori di Mana Trust Perché Donardo sono un po' i giocatori forni, perché tipo Biagio Ruocco è stato l'ultimo che ha vinto un GP Un GP quando si chiamavano un Grand Prix, quello di Lione 2020, quindi l'ultimissimo E comunque anche Antonio è fortissimo Sono tutti qualificati per Lille e quindi almeno cerco di carpire un po' di cose Io sono attualmente, non lo so, sto andando un po' su Rakdos Che è una squadra che vince e non si cambia Oppure Monogreen, al massimo Rakdos Sacrifice Comunque questi tre mazzi, comunque ho cercato di essere sul meno possibile Imparo anche magari a listare le carte veloce Perché questa è una cosa fondamentale in quei tornelli Perché almeno ti puoi guardare il pool un po' di più Listi veloce Guardate, cercate sempre subito di dividerle per colore E ricordate che quando c'è la lista di siti del competitivo Le carte sono definite per numero Quindi guardate il numero che compilate Poi ci sono le extra E quelle sono un po' un problema Però vabbè, alla fine si trovano Comunque come piccolo riferimento vi lascio il mio video guida Delle meccaniche di questo set Che non fa mai male Almeno ci sono un po' di basi Un po' di non di basi Perché per un po' si drafta quello, no? In generale per tornei lunghi Che sia Pioneer, che sia Limited È importante anche gestire le energie Che avete durante il torneo E ho cercato di mettermi minuti sulle gambe, no? Come si vuol dire Quindi la Four Seasons Ho cercato di giocare fino in fondo Anche partite lunghe Anche se ero già fuori da Topotto Anche se ero fuori dai premi Perché mi mettevo un po' di minuti, no? Un po' di volume Un po' di volume nelle gambe Diciamo, nella testa Anche per essere concentrati così tanto tempo E poi oltre a quello Bisogna essere sempre concentrati Sia sulle decisioni strategiche Quindi quelle che fai prima Che se le decisioni tattiche Che si fanno nel momento Momento fanboy Il mio obiettivo Per questo Magic on Vegas È farmi firmare queste Lui è Kai Bud È la carta che avevano fatto a Kai Bud Questa è la carta che avevano fatto a Finkel Questa a Yuto Takahashi Questo a Paolo Vitor Davo da Rosa E poi anche i Tarmogoy Se beh, ecco lì Il buon Justin Murray Ma non penso Anche perché io nella mia collezione Ho già i Fervent Champion Firmati da Dominguez Penso che vi ho tediato un po' Vado in palestra Vado in palestra Così mi svago un po' E mi rilasso un po' Oggi facciamo powerlifting E vi dirò Mi piace un botto Perché io mi rilasso È come se entrasse in una fase di meditazione E vi chiedo di mettere un like Commentare, iscrivervi al canale E di continuare a seguirmi in questi giorni Perché veramente Soprattutto per Las Vegas Penso di essere l'unico italiano A portarvi un contenuto in italiano Di questo bellissimo evento È tutto scaldato Adesso ci alleniamo Squat, panca e stacchi Facciamo i fondamentali Non sono un personal trainer Nel niente Io gioco a Magic Quindi Se vedete delle esecuzioni brutte Chill down Ciao a tutti! 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 Buon allenamentino, avete visto? Non sono video di fitness, non dovete fare quello che faccio io, mi scuso per le esecuzioni bruttissime che avrò fatto, tendenzialmente risolverò i miei errori, infatti voi non mi sentite ma dietro ci sono i trainer che mi insultano, tra cui Luca, e sappiate che da me in palestra ci sono i giocatori di Magic più grossi d'Italia che giocano tutti a Magic, infatti una volta uno l'ho amato che stava giocando e io stavo passando dietro sul portatile, fighissimo, voi lo fareste un evento di Magic in una palestra? Scrivetemelo nei commenti così lo propongo a Wizards Italia, detto ciò sono diventato col sole e esco con il diluvio, è stato un video un po' diverso rispetto al solito, questo vlog è poco Magic, molto la mia vita, la mia quotidianità, tra l'altro adesso che sposto l'allenamento avrei una voglia di andarmi a mangiare 6 kg di pollo fritto ma mentalità cazzo, mentalità, cosa che mi fa sempre ridere del powerlifting è che c'è gente, tra cui anche dei ragazzini, ma tu li vedi, cioè sono magrissimi, che si riscaldano con i pesi con cui io mi alleno, quindi pazzesco, pazzesco, per chi se lo stesse chiedendo non è che non mi faccio la doccia in palestra, sì perché abito troppo vicino alla palestra quindi vado a casa a farmela, non mi sto cambiando la maglietta perché ho portato un bellissimo zainetto vuoto pensando che ci fosse tutto il cambio e tutto, quindi vado a casa sozzissimo bagnato fradi, tanto la doccia, tanto la sono fatta pure con la pioggia quindi no scherzo adesso vado a casa e faccio la doccia però è per quello, doccia fatta e adesso si torna a testicchiare un po', studiare un po' il limite, studiare un po' il pain, studiare le liste, è un lavoraccio ma qualcuno dovrà farlo e oltre a questo faccio anche tutti i check, check volo, check hotel, pagamenti, il noleggio dell'auto, i tornei a cui mi sono iscritto, meli e un sacco di roba, vabbè. Una cosa che tengo sempre a dire quando si parla di competitivo è il fatto che sì, la fortuna esiste però non si deve vedere Magic come giocare d'azzardo, anzi è uno skill game che ha una componente allatoria, una componente randomica che sono le pescate, le pescate del nostro avversario, i match up e tantissimi altri fattori, ma come lo sappiamo nel lungo periodo questi fattori si annullano, le nostre sculate dovrebbero annullarsi con le sculate dell'avversario, le nostre sfigate dovrebbero annullarsi con le sfigate del nostro avversario, match up positivi, negativi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi bisogna trovare la preparazione e la preparazione sia strategica che tattica per cui si ha un buon vantaggio ogni partita, cioè si può arrivare contro dei determinati avversari ad essere tipo 70-30, Io preferisco essere sempre 70-30 che essere 30-70, ovvio, io posso vincere da tutti, perdere da tutti, perché Magic è così, però se ho un buon vantaggio statistico su tutto il field mi farà piacere, quindi la scelta è essere settati da tutto, essere settati da solo poche cose, vediamo, vediamo, io sono sempre dell'ottica che non ci si può preparare a tutto, non si può stare bene da tutto, Ci saranno sempre dei punti deboli e secondo me io mi preparerò per partire quei top 3-4 mazzi che mi aspetto in Pioneer e mi preparo soprattutto per vedere bene i top tier di questo Limited che di base sono rossi e di base sono verde. Una bella altra, avete visto? Mi è arrivato un collector booster intero da Malatrust, che vi ricordo che avete 5% di sconto sul loro sito e spedizione omaggio sopra i 49,90, grazie, codice sconto, Cina, Biondo, Malatrust, tutto maiuscolo. E per questo video credo che sia tutto, è stato un po' diverso, è stato forse un po' confusionario, forse un po' troppo lifestyle, poco Magic, avete visto pochissimo Magic, se non zero, forse alcuni time lapse, ma non so, è un tipo di vlog che volete comunque vedere o no, è più personale, introspettivo, non so, sono io che mi prendo male, che vorrei essere preparato bene, ma soli non esserlo e mi dà un po' fastidio. Quindi questo settembre sarà bello pieno, arrivare lì in America non vado dal 2018, ero andato a East Coast, adesso sto giro andiamo a West Coast, faremo un po' Los Angeles, Las Vegas, quindi ci si diverte sicuramente, ho anche organizzato qualche escursione, spero comunque di far bene venerdì. Il mio obiettivo è fare almeno un dei due, perché secondo me sul Sealed Best of 3 sono abbastanza preparato. Il draft è sempre, vediamo, con chi drafti e con chi non drafti, perché comunque il livello si alza, ma spero di fare bene, e spero di prendermi sto cacchio di slot per un Pro Tour, che l'anno prossimo, cioè Pro Tour Chicago, e comunque mi farebbe piacere parteciparvi. E oltre a questo, anche l'Europeo a Lille, mi sono qualificato, non mi sono mai qualificato a nulla di così importante, mi farebbe piacere far bene e portarmi a casa almeno allo slot per il Pro Tour, mi farebbe tanto piacere. Poi il sogno sarebbe arrivare in finale, essere qualificato in mondiale, però siamo oggettivi, anche se comunque si va lì puntando per vincere. Chiaramente, non vado lì pensando di perdere, vado lì pensando di vincere. Quindi per questo video è tutto, vi chiedo di lasciare un like, commentare e iscrivervi al canale, e ci vediamo alla prossima ragazzi, è stato un piacere stare con voi. Ciao! Grazie a tutti!